MASTRO TITTO In questo nostro 41esimo episodio utilizzerò per voi la classe Spadascia, in maniera particolare il Rapitore del Gelo, che vanta un attacco base pari a 525, con un pezzetto di acutezza in blu ed attributo elemento ghiaccio, per quanto riguarda invece l'armatura sto indossando ilmo di legiana alfa, cotta di barot alfa, parabraccia di cadaci alfa, spira di legiana alfa, schineri di ban alfa e amuletori in fodero, per ottenere le seguenti abilità, attacco ghiaccio livello 3, resistenza sanguinamento livello 2, ruba resistenza livello 2, schivata estesa livello 2, angelo custode livello 2 e rinfodero veloce livello 1. Inizio missione, Odogaron a piede libero, per ulteriori informazioni ed approfondimenti sulle caratteristiche dell'Odogaron vi invito a recuperare il ventesimo episodio della nostra videoguida. Bisogna I I I I I I I I I Grazie. 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 Ed è così che abbiamo anche sconfitto uno Dogaron di alto grado. Siamo stati bravissimi. Dalle classiche tre scalcate otteniamo come ricompensa uno Dogaron Artiglio più uno Dogaron Scaglia più ed infine una Zanna più e quindi ragazzuoli detto, fatto e visto anche questo non mi resta altro da aggiungere che anche per il 41esimo episodio della nostra video guida dedicata a Monster Hunter World è tutto si conclude qui io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto al prossimo video ciao